L'Abb Pineto Volley batte per 3-1 Boswinkel, cioè il Tuscania, perché in fondo non ho sbagliato, ha giocato da solo l'olandese, 25 punti straordinari, ma contro un Pineto ancora una volta vincente non c'era proprio niente da fare. Pineto che ottiene la decima vittoria consecutiva, 10 vittorie, 30 punti, 3 set soltanto subiti. Incredibile, Presidente Guido Abbondanza. Festa e fiera, considerando di più che a un certo punto, dopo il primo set, è venuto a mancare, per infortunio, Morelli, il che è tutto dire. Però la squadra è stata straordinaria. Hai fatto un riassunto della partita e di quello che è stata la nostra stagione dall'inizio adesso. Oggi è un risultato straordinario. Abbiamo conseguito 10 vittorie consecutive e un record straordinario, tutti da 3 punti, perdendo solo 3 set. Consentitemelo di dirmelo, oggi abbiamo costruito una macchina da guerra. Dopo l'infortunio di Morelli, oggi avevo temuto che gli equilibri saltassero, perché consegnare un opposto alla squadra avversaria è sempre una cosa difficile, una cosa complicata. Ma la squadra si è unita. Abbiamo costruito una macchina infernale e speriamo che questa macchina continui a correre come sta facendo ora. Sì, era tutto difficile a quel punto senza Morelli, però la squadra ha avuto una reazione d'orgoglio, anche se ha peccato un po' a muro, contrariamente a altre partite dove a muro è stato un sestetto straordinario. Però guidata la squadra da un partenio che è venuto poco fa vicino a noi, eccezionale, posso giocare pure io a questo punto? Sì, sì, assolutamente. Ma io credo che uno dei fondamentali più forti, uno dei fondamentali che il mister ha sviluppato nel corso di questa stagione è stato proprio il muro. Tocchiamo tutto e rigiochiamo quasi tutte le palle e questo ci consente poi rigiocarla con una squadra attrezzata, importante, con giocatori che sanno poi quello che fanno, ti consentono, come dire, di giocartela sempre, la partita. E quindi il muro per noi oggi è una fondamentale, importante, non a caso siamo i muratori. Siete dei muratori con la roba costruzioni. Bene, comunque chiudo ricordando soltanto i parziali, 27 a 25, 21 a 25 e poi avete vinto a 17 a 21 contro un ottimo Tuscania trascinato dall'olandese, ma non soltanto da lui.